Ciao a tutti amici, bentornati su Dite la vostra che io dico la mia e fuoco amico su Vannacci. Alcuni deputati del Rassemblement Nazionale hanno sollevato perplessità, dubbi, fino ad arrivare a dire che Vannacci non può ricoprire il ruolo di Vice Presidente dei Patrioti per l'Europa. Il nuovo gruppo europeo, il terzo gruppo per numero di deputati, creato da Orban, in cui fanno parte anche il Rassemblement Nazionale della Le Pen e la Lega di Salvini. Insomma un colpo molto basso, anche perché non ci sono motivazioni serie se non il sentito dire o l'aver letto di, senza neanche una conoscenza diretta del generale. Cosa che credo gravissimo, un inizio legislatura per i Patrioti pessimo, perché un fuoco amico su un personaggio come il generale, che può dare tanto all'interno del Parlamento europeo, penso non sia una bella mossa né una bella idea. Se il gruppo della Le Pen pensa, tra virgolette, di ripulirsi in qualche modo, perché l'informazione in generale mostra Vannacci come non è, allora cosa dovrebbe dire Vannacci di come viene mostrato dalla stampa, ad esempio francese, il gruppo della Le Pen? Così non si va da nessuna parte. Insomma un inizio peggiore non poteva esserci. Ovviamente la vicepresidenza del gruppo Vannacci non verrà toccata, il gruppo è guidato da Bardellà, ma attenzione, queste scaramucce possono dimostrare anche che probabilmente il personaggio Vannacci per taluni, non solo interni, quindi eurodeputati italiani, ma anche esterni, altri eurodeputati, può essere un personaggio scomodo. E questo non è detto che sia negativo, perché i personaggi scomodi evidentemente in politica fanno paura perché potrebbero riuscire a combinare qualche cosa. Vedremo come andrà a finire questa situazione, io ho detto la mia, voi dite la vostra sull'argomento se vi interessa e come al solito ci vediamo domani.